Salve, sono Beatrice Lorenzin. Abbiamo fondato Civica Popolare per realizzare una forza politica per la stabilità, per la tranquillità degli italiani, fortemente ancorata all'Europa e al civismo. Per noi è una priorità eliminare le diseguaglianze e portare benessere nelle nostre comunità. Vogliamo lavorare per mettere a posto le tante cose che ancora non vanno, riportare regole e sicurezza nella nostra quotidianità. Non facciamo promesse miliardarie irrealizzabili, rappresentiamo soprattutto il ceto medio e le famiglie colpite da dieci anni di crisi economica. Siamo stati decisivi nell'azione di riforma del governo che ci ha fatto uscire dalla crisi, ma vogliamo completare le azioni per la crescita con le nostre idee e i nostri valori, la nostra decisiva autonomia. Per questo siamo nella coalizione del governo Gentiloni. Siamo contro gli estremisti e gli incapaci, a favore della scienza e della ricerca. Con Civica Popolare si scelgono le politiche più adeguate per far crescere il lavoro per i giovani e per le donne, per assistere agli anziani, per sostenere economicamente le famiglie con bambini, per la salute dell'ambiente, per garantire le cure ai cittadini, per sostenere l'impresa, il commercio e il lavoro. Il voto a Civica Popolare è il più innovativo. Noi siamo per una svolta del buonsenso e per una politica umana che si fa carico dei bisogni dei cittadini. Civica Popolare con Lorenzin è un voto utile per te, un voto utile per l'Italia. Grazie. 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 Grazie.